È in piazza per la ricerca, oggi, domani fino a domenica l'AIL offre le uova di Pasqua perché questo contributo è importante per sostenere la ricerca. La ricerca ha fatto fare passi da gigante alla terapia della leucemia, un tempo di leucemia si moriva, adesso i risultati sono eccellenti, quasi il 60-70% delle leucemia oggi sono guaribili. Ma il problema è quello che abbiamo ancora davanti un 30-40% di persone che non ce la fanno, ecco perché bisogna contribuire in maniera significativa alla ricerca. Se dovessimo parlare di numeri in Sicilia, come siamo messi rispetto alle altre regioni d'Italia? In Sicilia abbiamo dei numeri che sono sovrapponibili a quelle delle altre regioni, l'aumento dell'età, un numero sempre maggiore di anziani, fa sì che alcune forme di leucemia sono in aumento. L'AIL cerca di sostenere soprattutto le persone anziani, le persone fragili con una serie di servizi, quali le case AIL, l'assistenza domiciliare, il trasporto dalle loro case ai centri di cura, in maniera che l'accesso alle cure sia possibile anche per queste persone che hanno delle serie difficoltà a curarsi. Oggi non solo uova di Pasqua ma anche un centro medico? È un centro medico per dire che la prima terapia della leucemia è il sangue, il sangue è fondamentale non solo per la leucemia ma anche per tutta una serie di altre esigenze mediche e il nostro appello sarà rivolto principalmente ai giovani che hanno in mano il testimone per far sì che il sangue non venga meno. Il costo delle uova? Il costo delle uova è di 12 euro e un uovo di 350 grammi, molto buono. Questa offerta sarà decisiva per la nostra comunità per poter sostenere le due case AIL, per poter sostenere l'assistenza domiciliare e per poter potenziare il servizio di accompagnamento dei pazienti anziani dalle loro case. Quando dico case dico anche Trapani, Agrigento, Caltanissetta e la provincia di Palermo ai centri di cura di Palermo dove abbiamo i centri di eccellenza. Per concludere oltre Piazza Verdi dove vi si può trovare? Sì, Piazza Verdi, Via Magliocco, Piazza Novità d'Italia, Via Lestrasburgo, Via Leonardo da Vinci e soprattutto davanti a oltre 40 chiese domenica dove i nostri volontari anche lì nel Sagrato offriranno le uova di Pasqua.